11 sconfitte 11 sconfitte domani domani si fa un'altra riunione eh? domani si fa un'altra riunione non meritiamo di andare in Champions ma questo non me ne frega una sega questa squadra qui non merita di andare in Champions giusto così 11 sconfitte domani riunione perché tanto i cinese i soldi per mandare via questo allenatore lo dobbiamo usare per i torneini questo allenatore perché per il campionato lui purtroppo non non c'è lo vedi dalla non riesce a motivare i giocatori quindi domani in altra riunione siamo vicini a voi cosa si fa domani? eh? ma cosa la parla? che schifo e vergogna che vergogna ce l'ho con l'allenatore non me ne frega nulla e te lo spiego anche perché ce l'ho ce l'ho con l'allenatore perché perché l'Inter gioca in maniera meccanica toglie l'attaccante mette l'attaccante non cambia mai schema non rischia mai nulla ha provato a giocare un po' a 4 a fine partita ha messo le tre punte ma è un allenatore senza idee è un allenatore che ormai sa che c'hai foglio di via in tasca e come ho detto anche qualche giorno fa in un video lui tutti quelli che sono all'Inter hanno fatto all in sulla Champions League ma o la vinci la Champions League perché altrimenti il prossimo anno difficilmente andrà in Champions League ma questa squadra con 11 sconfitte non merita di andare in Champions League quando trovi una squadra che non ti dà la profondità come ha fatto il Monza una squadra che si chiude te con questo allenatore qui con il cilese in tribuna che porta merda poi tra l'altro te con questo allenatore qui con il Gio e a lui con tutti con tutti questi passaggi meccanici con il Gio a Tergi Cristallo tutto orizzontale destra-sinistra destra-sinistra non ti danno profondità non puoi verticalizzare l'Inter ha il Gio a Tergi Cristallo destra-sinistra tic-tac tic-tac tic fascia e cross poi ascolta Danfris io ti ho sempre difeso hai fatto 40 cross di questi 40 38 sono finiti tra metà cross sono finiti nel fiume l'hai buttato nel fiume nel metà cross 4-5 cross sono andati su un balcone di una signora che stava che stava stendendo i panni e i restanti cross che hai fatto Danfris hai rotto 4 filestrini delle macchine parcheggiate fuori San Siro ma di cosa vuoi ragionare? anche te Danfris 65 milioni avevano detto costavite ci sa due esterni che hanno due piedi ma dove vuoi andare ogni cinese? io stamattina ho fatto un video ho detto occhio perché in Monza se non lo attacchi ha degli ottimi palleggiatori è un casino com'è andata? questa squadra non ha la forza di andare sempre a mille perché è un gioco senza idee è un gioco meccanico è un gioco di merda non c'è uno che salta l'uomo non c'è uno che si inventa qualcosa a malapena c'è qualcuno che sa battere un calcio d'angolo e una punizione devi andare a mille e non siamo in Champions League Inzaghi qui non ti lasciano spazio ormai lo hanno capito si aiutano tutti dietro e te non ci metti più le mani ormai ti sei impantanato è inutile tutto il giusto il ciuffo e che entri in campo Inzaghi hai rotto i odioni anche te come il cinese quest'anno ragazzi è dura io ve lo dico la Champions League sta andando bene ma quest'anno ragazzi è dura sopportare ma anche i giocatori cioè ragazzi ma anche i giocatori domani si fa un'altra riunione tanto il cinese se non lo manda via non ha un euro i cinese fino a che non va via lui non spende nulla vuole fare le passerelle in Champions League io non ho non era mai successo nella storia dell'Itra uno schifo ma che cazzo fate oh ma anche te Lukaku una sega Lukaku di Champions League è un Lukaku molto più umile molto più disponibile al sacrificio in campionato vuole fare il protagonista anche lui vuole fare gol non aiuta cioè vedi proprio un atteggiamento diverso di tutti tra il campionato e la Champions League dov'è il cinese ora lo voglio davanti io ti voglio davanti ai microfoni cinese anche quando si perde dove sei ora con qui il giacchettino di Fonsi in tribuna dove sei sei vestito sembra tu vada in gita dove cazzo sei vai davanti ai microfoni per spiegare questo schifo eh un tese un terri rotto i coglioni andare al giro un impiattino in mano per raccattare i giocatori anzi non li dovrei fare i video dopo queste partite comunque mi so sentito di farlo dai ci si becca un'altra volta ciao Inter ciao 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 ciao